Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, 8 e 33 minuti, ben ritrovati e ben ritrovato anche a Walter Cherubini, buongiorno Walter! Giornata a voi in una giornata diciamo col sole. Eh sì, eh sì, frescolina ma col sole, come piace a noi. Siamo abbastanza freschina. Va bene, ci sta, siamo anche al 16 di gennaio, se non facesse freddo adesso, ahimè, sarebbe veramente un grossissimo problema. Non siamo in attesa delle navicate del 1985, non proprio. Anzi, questi sono i giorni in cui su Facebook cominciano a girare tutte le foto, vi ricordate l'85, vi vado l'87, la navicata, il tram che non passa, le scuole chiuse. La città era bloccata, c'erano 70-80 centimetri di nere. Sì, sì, infatti, infatti. Poi dopo arrivano anche le foto del palazzetto dello sport di San Siro, venuto giù, dopo la navicata, tutte queste robe qua. Sì. E' un classico. A questo punto c'era un tirante, un tirante si è smollato e quindi irreparabilmente, irreparabilmente. Infatti ricordiamo che non è mai venuto giù, era semplicemente rotto un tirante, solo che era stato concepito che non si poteva aggiustare. C'è stato proprio male. Quindi diciamo che da lì però dopo 30 anni è nato il parco dei capitani Facchetti Maldini e quindi abbiamo recuperato, dopo 30 anni dalla nevicata, 50.000 metri quadri di parco che è anche profondo, nel senso che non sono mezzo metro di terra, ma è proprio profondo. E quindi diciamo che non tutto è male quel che finisce male, da questo punto di vista... Chissà per quanto c'è ancora quel parco però. Che ci vorrebbero fare uno stadio lì sotto, Walter. Quel parco, quel parco... Tiene, tiene, mi sbilancio, secondo me tiene. Ma io non mi metto a fare le previsioni, dico solamente che se la logica della città è quella di non consumare suolo, è chiaro che bisogna andare ovunque nella logica dell'utilizzo delle aree che sono state dismesse e nella logica delle ristrutturazioni. Questo è un punto fermo, anche se dobbiamo dire che in Lombardia in generale, ma anche a Milano, il consumo di suolo continua. Questo è il tema grosso. Sì, sì, adesso non mi ricordo se più del 50% della logistica lombarda sta nella provincia di Milano. Cioè, quindi pensa a quanto... Sì, della logistica nazionale sta in Lombardia. Sì, infatti, e di conseguenza quello appunto. Cioè, il 50% della logistica nazionale sta in Lombardia e tipo il 40% sta tutta nella provincia di Milano. Che vuol dire cemento, probabilmente. Sì, vabbè. Parliamo invece di periferie, dove spesso comunque si trova la logistica anche. Ormai no, sono quasi tutti ben fuori dalla città, dai, no, su quello sì. Però, insomma, periferie, hai tanti temi, ho visto che si è segnato tante cose, da cosa vuoi partire? Beh, diciamo che dobbiamo dare un minimo di completamento di quelle che erano le indennità di chi svolge cariche pubbliche. Ok, che sono cambiate appunto da quest'anno con una legge, tra l'altro, una legge del 2020-2022 che pian pianino è andata poi in Milano. Milano ha deciso di farlo lentamente, questo incremento. Adesso non so se fosse Milano o meno, nel senso che c'è una disposizione nazionale, appunto quella del 2022, che prevedeva, premesso che le indennità erano quelle del 2000, e quindi nel 2021 si è iniziato a fare un aggiornamento. Un aggiornamento che dal 2021 al 2024 ha sostanzialmente raddoppiato quelle che erano le indennità di funzione. Stiamo parlando in questo caso di le città metropolitane in particolare, e quindi Milano come città metropolitane, quindi il sindaco della città di Milano, in quanto Milano è città metropolitana. Abbiamo detto che il nuovo appannaggio è di 13.800 euro mensili, e poi via via vice sindaco, assessori, presidente del consiglio comunale, ed anche per certi aspetti i consiglieri comunali, anche se i consiglieri comunali avevamo fatto qualche conto l'altro giorno, ho qualche aggiornamento in merito, dove i consiglieri comunali non hanno un appannaggio mensile, ma hanno un gettone di presenza, un gettone di presenza che si aggira attorno a 120 euro lordi, e che è accumulabile fino a 29 sedute mensili, che francamente non sono poche, 29 sedute mensili, per un importo complessivo di massimo, un tetto massimo di 3.450 euro. C'è stato anche l'aggiornamento per i municipi, i municipi, i nove municipi, dove i presidenti di municipio, adesso andremo a vedere, siccome sono riparametrati i presidenti in particolare, a una percentuale del compenso degli assessori, e quindi mi dicono, vedremo a fine gennaio quanto è il corrispettivo, comunque diciamo che sono attorno ai 5.100 euro al mese per i presidenti di municipio. Sempre lordi, ricordiamolo, parliamo sempre di cifre lordi. Stiamo parlando sempre di cifre lordi, dopodiché ci sono gli assessori dei municipi che percepiranno una cifra attorno ai 2.000 euro, sempre lordi. Il presidente del consiglio di municipio, che prenderà circa 1.700 euro mensili. Dopodiché, ecco, dobbiamo vedere qual è la situazione dei consiglieri, invece, che hanno attualmente un tetto massimo di gettoni di presenza di 11 e con un corrispettivo di 60,43 euro a gettoni di presenza per le sedute in consiglio di municipio e per la partecipazione alle relative commissioni. Ecco, questo qui, tanto per avere un dato, poi magari successivamente saremo più precisi. E allora ci fermiamo un attimino, un po' di musica, poi torniamo sempre qui con Walter Cherubini a parlare di periferie. Magari nel frattempo sogniamo un po' di California, che dici Walter? Il Dick Dick con Sognando la California. Ce lo grigio su. Il Dick Dick Sognando la California. Invece noi sogniamo Grato Soglio, giusto Walter? Perché ne hanno parlato tutti i giornali questa settimana. È successo questo incendio. Se noi andiamo all'etimologia, proprio nei tempi che furono, almeno quello che è l'adagio, Grato Soglio. Un soglio grato, un soglio accogliente. Come la California. Come la California. Una solleggiata California. Non è successo appunto a Grato Soglio? Non è stato così grato questa settimana? Diciamo che il fatto di cronaca è che c'è stato un, anzi, una serie di materiali annessi a un cantiere per la ristrutturazione di un palazzo del Grato Soglio, via Saponaro, gli hanno dato fuoco. Avevano già cercato di dargli fuoco precedentemente da quello che risulta, poi gli hanno dato fuoco. Insomma, sta di fatto che una quarantina di famiglie si sono ritrovate con fumo, fiamme, sono state sgomberate. E qui si innesca tutta una rincorsa. Tutta una rincorsa dove, al di là del fatto specifico, però ci sono da fare alcune considerazioni, perché altrimenti noi continuiamo, come anche ha detto qualcuno che opera all'interno del Grato Soglio, ormai stabilmente da anni, premiato anche dagli award di Milano News, tra le altre cose. Quindi noi abbiamo un patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica, tra di proprietà della Regione e del Comune di Milano, di circa 64.000 appartamenti. Di questi, 10.000 appartamenti non sono utilizzati. Questo è il tema. Una situazione che si è consolidata negli anni, dove ciascuno cerca di mettere più o meno positivamente delle pezze, però questo qui è l'esito di quello che noi possiamo dire l'effetto burocrazia. L'effetto burocrazia ha portato, quindi tutta una serie di norme, di regole, senza voler dare colpe a chissà chi, però se noi non ragioniamo in questi termini, dove io mi trovo ad avere 10.000 appartamenti della città di Milano, di proprietà pubblica, che non sono utilizzati. Quando si dice, ah, ma ci sono gli affitti alti e così via. Allora, se noi non andiamo alle ragioni che hanno portato... Ma chi ci deve andare per una volta? Perché lì ogni volta che tu parli con qualcuno, ti dici, eh, ma sono le regole, ma chi le fa queste benedette regole? Chi le deve cambiare? Ma, devo dire una cosa. Pre-pandemia, 2019, l'Università Cattolica fece due giorni di convegno sulle periferie e venne invitato anche il sindaco di Genova e quindi case popolari. Però quando, così, a margine del convegno, avevamo scambiato qualche considerazione, sul tema delle case popolari si è come alzato le mani. Ah. Nel senso che è un tema piuttosto complicato e complesso, anche perché all'interno ci sono tutta una serie di realtà che operano e ciascuno difende, diciamo così, il proprio fortino, la propria isoletta. Il risultato è che però lo tsunami frega tutti e lo si vede poi più marcatamente in determinate situazioni. Allora, il tema di fondo, a partire ciascuno dalle proprie esigenze, dalle proprie sensibilità, è però, se non ci si mette, tra virgolette, a condividere quelle che sono le proprie capacità, le proprie esigenze, in una visione comune, premesso che ci sono 10.000 appartamenti da utilizzare, perché se fosse una guerra tra poveri, dove ci sono tre appartamenti, siamo in 10 e ci scaniamo per quei tre, e invece non è così. Allora, questo qui è il tema, altrimenti scoppia il problema, tutti quanti accorrono, ho in mente una decina di anni fa via Padova, scappa il morto, tutti quanti accorrono, ma quante associazioni, quante cose che si sa. Sì, ma erano lì da anni, che non ci conoscevamo. Erano già lì prima. Allora, bisogna cambiare metodo e in questo metodo c'entrano anche i municipi. Questo qui è uno dei punti salienti, perché il problema è che il territorio non è governato nella sua complessità. Sempre lì si torna alla fine, cioè il tema del governare il territorio più prossimo a te e poterlo fare anche meglio, cosa che invece i municipi spesso non riescono, non possono fare. Ricordiamo che i municipi non hanno voce in capitolo sul tema case popolari. Sull'edilizia pubblica hanno competenza, diciamo così, sull'edilizia privata, ma non sull'edilizia pubblica. Cioè, quello che è proprio il tema dell'edilizia pubblica. Ma non è che non ce l'avessero mai avuto, perché il regolamento del 1977 prevedeva che i municipi avessero una certa competenza sull'allora IACP, Istituto Autonomo Case Popolari, che poi è stato riconvertito e oggi sono sostanzialmente ALER per Regione Lombardia e MSPA per il Comune di Milano. Avevano la competenza che è stata tolta, peraltro quel regolamento, come abbiamo detto più volte, non è mai stato applicato, dopodiché è stato sostituito vent'anni dopo da un nuovo regolamento, appunto nel 1997, che non prevedeva più questa cosa. Quindi, chi è che gestisce il territorio nella sua complessità, premesso che ci sono tante funzioni, tante proprietà, tante cose pubbliche? Nessuno. E ricordiamo, come giustamente farei dicendo tutto adesso, che tutto questo viene regolamentato da dei regolamenti, appunto, sul gioco di parole. Non è che c'è una legge che definisce queste cose, quindi ogni Comune potrebbe fare come vuole, ovviamente, dentro dei certi limiti dettati dalla legge. Quindi, ci si chiede come mai questi regolamenti poi vengono fatti, rimangono carta muta, se non carta straccia, e poi adesso arriviamo al municipi, quindi con la nuova legge, dopo la legge del Rio, con l'istituzione anche della città metropolitana, che sono molto legati come temi con i municipi e la città metropolitana, che sono, insomma, con le due istituzioni che dovrebbero allargare gli orizzonti e invece quell'altro localizzare le decisioni, no? Allora, in verità non sono legati. Ok. Perché? Perché i municipi sono stati introdotti in virtù della legge del Rio che istituiva le città metropolitane e quindi anche l'elezione del sindaco della città metropolitana. Quindi anche le città capoluogo dovevano riarticolarsi in una maniera diversa. Per quanto riguarda Milano, ci fu, tra virgolette, l'escamotage, c'erano i consigli di zona, sì, quanti erano a Milano? Nove. Bene, adesso li chiamiamo municipi, facciamo un nuovo regolamento. Quanti sono? Sono sempre nove. Ci furono anche delle iniziative per risistemare un po' i confini tra le diverse zone, ma rimase tutto appiccicato perché tutto come era prima, perché le varie zone cercarono di conservare il proprio territorio. Quindi non venne modificato nulla, avendo fatto un regolamento nel 2016, siamo nel 2024 e diciamo che attualmente siccome non c'è due senza tre sta facendo il percorso dei vecchi regolamenti in applicato il 77 per 20 anni, il 97 per 19 anni. Cosa divertente è che poi senti i municipi si lamentano, senti i consiglieri della città metropolitana si lamentano, quindi questi regolamenti non si capisce chi li faccia se poi dopo chi deve applicare si lamenta dell'applicazione di questi regolamenti. Walter, siamo arrivati alla fine. Hai visto oggi, è andato super veloce, ma insomma tanti temi. Sì, c'è un tema... Velocissimo? Un minuto? Un minuto. C'è un tema proprio di impostazione organizzativa. L'abbiamo visto con la sanità. Milano è un polo d'eccellenza della sanità, vengono dal resto dell'Italia, a Milano per farsi curare. Dopodiché con la pandemia abbiamo visto che però c'è un problema di gestione del territorio, di sanità sul territorio. Ecco, il problema di Milano è esattamente così, che continua ad essere attrattiva, ma non c'è la gestione del territorio. Se non si affronta questo nodo, e con i municipi che esistono già, perché non c'è niente da inventare, noi continueremo a riperpetuare i problemi. Chiarissimo, Walter. Allora, grazie mille davvero anche per oggi. Noi ci vediamo settimana prossima, sempre con la consulta periferi Milano, per appunto capire al meglio quello che si potrebbe fare, magari a volte non viene fatto, o comunque invece anche quello che funziona nelle nostre periferie, come ad esempio il grande fervore culturale che c'è sempre, che Walter appunto ci vuole, ci ricorda giustamente, che esiste in tutta la nostra periferia, in tutte le periferie di Milano. A fra poco per la chiusura, grazie Walter, a martedì prossimo. Ciao. Ciao.